Buongiorno amici di Dottor Fungo, oggi siamo a fare una bellissima escursione con Ale, e eccolo là. Qui siamo alla cascata del Dardagna, siamo partiti da Butale in provincia di Pistoia, abbiamo lasciato una macchina lì, praticamente è un paesino, una frazioncina sopra Spignana, sempre in provincia di Pistoia, abbiamo preso sentieri, abbiamo iniziato a fare tutto sentiero fino al lago Scaffaiolo, che abbiamo fatto anche l'ascolta settimana, dal lago Scaffaiolo abbiamo preso sempre il sentiero per arrivare qua a queste bellissime cascate, e poi da qua poi ritorneremo verso il lago Scaffaiolo, e poi torneremo alla macchina, vi faccio vedere. Ecco le cascate del Dardagna. Ah, le ha messo a piedi a mollo, sto facendo, ecco, il pediluvio. Freschina eh? Vedete la gente, perché comunque qui chi vuole, vuole venirle a visitare e non camminare, praticamente qui sopra c'è un parcheggio, e infatti abbiamo trovato anche gente, lì ci mancava la cravatta, vabbè, comunque venendo fa quello che vuole. C'è un parcheggio e c'è questo tratto di pochissimo di sentiero e le porta qua alle cascate. Niente, ci aggiorniamo stasera. Seconda tappa raggiunta, prima il lago Scaffaiolo, ora qua. E proseguiamo così. Ciao ragazzi, avanti. No city, yes wild. Ciao.